e dottore io non c'è troppo aspetti aspetti sto scrivendo musica e martino le mette un si minore lì non può mettere un simino perché perché non ci non è non essi minore lei e resti a mettere simile cosa c'è ma mi stai mettendo un anzio sto componendo io sono il mauro pagani che devo essere sincero della città sto componendo se troppo casino dobbiamo sgomberare qua un po di roba non conosce qualcuno per portarsi via qualcosa perché io qua c'è come aveva fatto quella volta che mi ha ritrovato quella porta per il bagno detto così sembra un rigatiere vabbè lei conosce tanta gente faccio sto casino qua bisogna portare via un po di roba perché non ci siamo più basta dirle ma io ho una ditta fantastica che fa questi lavori qua le fa professionale ma stai scherzando addirittura questi sgomberano cantine solai appartamenti sgomberano magazzini ultimamente sgomberano asili ne hanno fatto uno hanno fatto un bel lavoro le sgomberano un po di roba li possiamo chiamare quanta gente viene come va bene per sgomberare qua ci vanno col metodo loro un 5.000 persone ma come 5.000 persone certo perché ancora qualcuno si fa male loro che cosa fanno bloccano tutto un quartiere ecco si mettono lì polizia chiamano anche perché le cose devono essere fatte bene e loro sgomberano sgomberano ecco ogni tanto anche per bonificare l'aria buttano dei fumoni delle cose fumanti e no è perché uno è finito il tempo che lo sgombero te lo fanno con il tre ruote col carretto sgombero è una cosa professionale capito va fatta bene 5.000 uomini quanto mi costa sta roba scusi ma che devo fare un po di cose ce l'ha perché 5 però ci mettiamo d'accordo quelle allora la ditta prendi nota si chiama ditta sgomberi ecco salvini appendino è una società salvini appendino si chiamano fanno sgomberi ecco sicuri io stavo facendo lo sport perché mi stai disturbando amici vi aspettiamo questa settimana a roba forte dove noi non sgomberiamo anzi noi e accogliamo accogliamo il nostro pubblico corso sommelier numero 12 appuntamento con roba forte dottor lo sapio mao e tanti amici frido lo bue c'è re martino venite numerosi l'ingresso è libero c'è un up to you quindi c'è da mettere una piccola ecco oppure potete prenotare la vostra cena e venire a mangiare insieme a noi mi raccomando non mancate che c'è sgombero appendini allora ditta sgombero appendino salvini e non mette appendini salvino perché poi è diversa e poi volevo solo dire alla ditta salvino appendino l'omega 3 si prende dei filetti di sgombro no dai filetti di sgombero ecco veniteci a trovare non mi dia fastidio che sto scrivendo musica io sono musicista lo vuol capire oh martino metto un si minore